Aumentano gli incidenti mortali sulle strade aretine. I dati sono quelli dell'osservatorio per la sicurezza stradale e la prevenzione dell'incidentalità, organo previsto nell'ambito della conferenza provinciale permanente richiesto dal Ministero dell'Interno. Nell'ultima riunione presso la prefettura di Arezzo sono stati analizzati i dati statistici. Gli incidenti nel 2019 nelle arterie che attraversano il territorio aretino sono stati 654 con 1.384 feriti, di meno rispetto al 2018 che aveva registrato oltre 1.000 incidenti e oltre 1.500 feriti. Nel 2019 aumentano però gli incidenti mortali, 18 rispetto ai 17 del 2018 con un picco dei mesi invernali nel fine settimana. Tra le prime cause l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze, il mancato utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e la distrazione dovuta all'uso del telefonino. Coloro che maggiormente sono stati sorpresi alla guida in stato di alterazione vanno dai 46 ai 55 anni. In aumento anche il numero delle patenti sospese, 858 nel 2019 rispetto alle 832 del 2018. Indubbio che sia lo stile di guida a causare maggiormente un incidente ma anche le condizioni delle strade, specialmente per gli utenti più deboli, pedoni e ciclisti. Oltre all'ambito urbano le arterie che hanno registrato più incidenti sono la regionale 71, la Umbro casentinese e la 69 che porta verso il Val d'Arno. Ecco perché proprio in queste arterie sono stati decisi due tipi di intervento, un rafforzamento dei controlli da parte di tutte le forze di polizia ma anche un'attività di sensibilizzazione nei confronti di comune, provincia e ANAS affinché vengano ben presto stanziate maggiori risorse per interventi di manutenzione.